Todis offerte sorprendenti dal 26 settembre al 6 ottobre 6 uova allevate a terra senza antibiotici 1 euro e 29 fette biscottate classiche integrali 480 grammi 1 euro e 19 latte parzialmente scremato UHT 1 litro 75 centesimi 20 imprese rappresentanti di una forza lavoro pari a circa 500 dipendenti hanno fatto sentire la loro voce con un accorato appello sulla chiusura di Torre Valdaliga Nord. Oltre a ribadire il no allo stop anticipato e l'urgenza di una mobilitazione, il coordinamento delle aziende chiede anche di valutare con attenzione e pragmaticamente tutti i progetti alternativi che sono stati proposti in questa fase. Nessun progetto deve essere accantonato senza un'adeguata analisi dei costi e benefici ad esso connessi. Questa è la filosofia che sembra muovere le piccole e medie imprese locali dell'indotto della centrale di Torre Valdaliga Nord che hanno diffuso un nuovo drammatico appello pubblico sulla loro situazione. Il coordinamento di aziende che comprende realtà imprenditoriali tali da rappresentare circa 500 lavoratori annunciano che intensificheranno la loro mobilitazione e puntano in particolare l'attenzione sulla necessità di un approccio pragmatico alle scottanti questioni relative alla phase out dal carbone. Confermata anche la totale bocciatura dell'ipotesi di anticipare la stop dell'attività della centrale, è stata ribadita da parte dei presenti la fortissima preoccupazione per le evoluzioni della situazione, soprattutto per le notizie che su una chiusura dell'impianto anticipata rispetto alla data del 31 dicembre 2025. Si legge nel documento un'eventualità che metterebbe in grave crisi tutta la filiera già impattata per la perdita di volumi di attività perché non permetterebbe di avere il tempo necessario ad analizzare i nuovi progetti. L'aggiunta comunale ha approvato il logo Love Civitavecchia come simbolo ufficiale del sito turistico del comune di Civitavecchia insieme alla definizione del brand allineato a tale marchio e all'approvazione della relativa registrazione. In continuità con quanto aveva iniziato la precedente amministrazione, l'approvazione del logo rappresenta un passo per la creazione di un'identità visiva della città che aiuti alla promozione del territorio. Il sito turistico comunale disponibile all'indirizzo www.lovecivitavecchia.it e la relativa app sono stati realizzati con l'obiettivo di offrire ai visitatori una piattaforma intuitiva per scoprire le bellezze della città, gli eventi e i servizi disponibili. Proseguono le interlocuzioni tra ConfCommercio e l'amministrazione comunale ed in particolare con l'assessore al commercio Enzo Dantò. Diversi gli argomenti trattati, dalla proroga per le installazioni esterne al mercato, passando per i progetti del metaverso e del marchio di denominazione comunale di origine. L'intervista. Cristiano Avoglio continua il dialogo tra ConfCommercio e l'amministrazione comunale su diversi argomenti. Il più importante, forse anche il più imminente, è quello che riguarda le installazioni esterne e la problematica relativa ai Deor. Sì, esatto, Antonio, questo è un problema che è arrivato e sta arrivando alle porte perché diciamo che la proroga per le installazioni esterne scade in teoria il 30 marzo del 2025, quindi è uno dei primi problemi che abbiamo appunto affrontato insieme all'ufficio commercio. Questo è un fatto determinante perché ci sono tantissime attività che altrimenti andrebbero in difficoltà. Dico che comunque abbiamo avuto un'ottima apertura da parte dell'assessore Enzo Tantò in merito a questo e quindi abbiamo anche proposto sia un'eventuale proroga per guadagnare tempo, quindi minimo di un anno, ma se fosse possibile ovviamente anche che possa arrivare a fine 2026 e dal contempo abbiamo messo anche a disposizione i nostri uffici di ConfCommercio Roma per cercare di, in collaborazione ovviamente con gli uffici comunali e la sovrintendenza, insomma tutti gli uffici di riferimento per cercare di istituire un regolamento sui DO che in questo momento non esiste a Civitavecchia. Il marchio Dego è un altro punto su cui puntate? Sì, il marchio Dego, denominazione comunale di origine, è un altro marchio che insomma da diversi anni stiamo cercando di portare avanti, è un marchio che dà sicuramente molto lustro ai prodotti tipici della città di Civitavecchia. Anche qui abbiamo ripreso i lavori con gli uffici comunali, abbiamo compreso anche e fatto comprendere che questo marchio si può utilizzare non solo per i prodotti tipici come ad esempio biscottini di Natale, pizza di Pasqua, ma si può utilizzare anche per gli eventi caratteristici che propone la città, quindi potremmo usarlo addirittura per il 15 agosto, per la serata delle pastorelle. E poi c'è il tema del mercato, altro argomento, macro argomento possiamo dire così della nostra città. È arrivato il momento di trovare una soluzione definitiva per questo mercato, per gli operatori, per dargli la possibilità di lavorare in modo più comodo, per fare in modo che il mercato cittadino diventi veramente una delle tante punte di diamante che possiamo avere a Civitavecchia. Insieme a questo dobbiamo non solo lì al mercato ma anche ad esempio nella zona del mercato del mercoledì o comunque diciamo in tutte quelle zone dove ci sono anche dei venditori ambulanti, itineranti, anche lì ci sono state fatte delle segnalazioni su dell'abusivismo. E poi c'è il progetto che possiamo definire più a lungo termine che riguarda la digitalizzazione delle attività commerciali ma anche che può riguardare anche gli uffici comunali. Sì esatto, noi come abbiamo già detto insomma inizio 2023 ricalcando un po' quella che è la città di Seoul abbiamo proposto questo progetto che abbiamo chiamato Civitavecchia, quindi non è nient'altro che la digitalizzazione della città, questo ci può dare in questo fortissimo momento dove non si sente altro che intelligenza artificiale, non possiamo far vedere prima determinate cose della nostra città, croceristi, turisti e chi insomma vuole vedere prima di venire direttamente nella nostra città, così come possiamo utilizzare una digitalizzazione dedicata agli uffici. Sulla 12 Roma Civitavecchia per consentire lavori di manutenzione dei portali segnaletici, dalle 21 di oggi alle 6 di domani sarà chiusa l'uscita di Civitavecchia Sud per chi proviene da Roma, in alternativa si consiglia di uscire a Civitavecchia Nord. Anche quest'anno presso il Parco Martiri delle Foibe si svolgerà venerdì alle ore 10 la manifestazione nazionale Una Rosa per Norma. L'evento è giunto alla sesta edizione, promosso in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio per onorare la memoria della giovane studentessa estriana Norma Cossetto, medaglia d'oro al merito civile, se viziata e gettata ancora viva in una foiba, tra il 4 e il 5 ottobre 1943 dai partigiani di Tito, nella foiba di Villa Surani. C'è un cambio nel prossimo match di Michael Magnesi, programmato per sabato 26 ottobre a Tolfa nel centro sportivo di Via della Pacifica all'entrata del paese. Infatti l'avversario non sarà più Darwin Martinez, ma sarà sempre un nicaragüense. Il nuovo obiettivo di Long Wolf si chiama Kevin Trana, che vanta un record di 15 vittorie, 3 pareggi e 20 sconfitte. Si tratta di un pugile che è già conosciuto in Italia, avendo affrontato boxer molto quotati come Alessio Lorusso e Cristian Zara. Ed è di nuovo tempo di Coppa Italia per il Civitavecchia. I nerazzurri reduci dal pareggio esterno a Colleferro in campionato saranno di scena a questo pomeriggio alle 15.30 sul campo dell'Aurelia Antica Aurelio. Si gioca il ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa Italia con i Civitavecchiesi che partono dal punteggio di 2-0, ottenuto all'andata grazie alla doppietta di Manuel Vittorini e cercheranno di conquistare l'accesso agli ottavi. Conad presenta Grazie a tutti! cling